Diciamo che l'episodio del rigore, secondo me non si possono decidere le partite, perché ci aveva in mano in portiere la palla. Gli episodi così sulle aree di rigore avvengono su tutte le partite e in tutte le occasioni di calcio d'angolo. Dovrebbe dare il calcio d'angolo anche a noi quando abbiamo battuto, se usavano lo stesso metodo di misura. Io credo che decidere le partite in questo modo non è giusto, non è da parte... Non è perché ci cambiamo carpi ci si deve dare rigore contro, perché la partita è stata decisa solamente da questo episodio. Al di là dell'episodio forse ci si aspettava qualcosa di più in avanti della sua squadra che ha terminali offensivi importanti. Ardemagni, Sgrigna poi nel secondo tempo, Bakogo ha fatto bene, insomma rispetto alla mola di gioco un po' poche palle e gol davanti. Sì, per quello che abbiamo fornito, per come abbiamo giocato, abbiamo avuto una palla che è stata saldata sulla linea a primo tempo. Sono delle occasioni che dobbiamo essere più precisi, più in ultimo passaggio, più cattivi in zona gol. Questo dobbiamo migliorare sicuramente.